L'esempio e il modello, come molti hanno ricordato di Civitavecchia, fa due operazioni importanti. La prima capovolge un paradigma e il paradigma è quello largamente diffuso, purtroppo che ha ripreso anche corpo e spessore nel dibattito pubblico, legato proprio alle scelte di natura, legate proprio alle scelte della transizione. E in questo paradigma, che purtroppo ancora abbiamo anche ascoltato dalle parole di importanti esponenti istituzionali, che non sia possibile coniugare uno sviluppo diverso con un lavoro e un'occupazione, aggiungo di qualità. Il modello che si è provato a mettere in campo dice altro. Seconda questione, il ruolo del sindacato in questo quadro, perché è indubitabile che, come ricordavo poco fa, il ruolo di cerniera è anche un ruolo negoziale, se volete, di contrattazione per lo sviluppo, come l'abbiamo sempre identificata, perlomeno negli ultimi sette anni. Cioè un ruolo non semplicemente di resistenza o di difesa, ma un ruolo dove si prova anche a costruire le condizioni per nuova occupazione e soprattutto di nuovo per un intervento di natura economica diversa. Perché tenere questi due temi insieme è strategico e vincente. Quindi proseguiamo questo lavoro, individuiamo anche una data in cui ci possa essere non soltanto la rilevanza nazionale che veniva evocata rispetto a un modello e a un progetto, ma soprattutto credo ridare la parola e restituire un quadro in cui lavoro di qualità e non precario e sviluppo sostenibile siano i temi al centro anche della costruzione di prospettive sindacali. Nel 2021 è stato presentato questo progetto a largo di Civitavecchia con 27 turbine per un totale di 270 MW. Un territorio che ospita in Italia una realizzazione del genere è un territorio potenzialmente evocato a fare di questa realizzazione anche un elemento di sviluppo produttivo, quindi non soltanto di utilizzazione dell'energia elettrica prodotta che nasce e finisce nel momento in cui l'impianto viene completato, ma proprio come fatto di comparto industriale che grazie all'esperienza che il territorio può fare nella costruzione di questo tipo di impianti può diventare un tipo di produzione stabile con una proiezione, con una vista temporale che si proietta da qui ad almeno il 2050 se non oltre.